Oggi, questo lunedì, continuiamo il nostro percorso dei dibattiti nella foresta di Sherwood e amplieremo un po' la scala sia geografica sia politica rispetto a ciò di cui abbiamo discusso e abbiamo parlato lo scorso lunedì, appunto nel dibattito da Cobane all'Europa. L'ultimo intervento dello scorso lunedì è finito per parlare di confini, confini della fortezza Europa, adesso è il momento di fare un salto e di andare a parlare direttamente del cuore dell'Europa. La domanda che ci vogliamo porre stasera infatti è che cos'è l'Europa, che cos'è l'Unione Europea, quale tipo di costituzione materiale ha permesso che si fondasse questo tipo di processo di unificazione comunitario che abbiamo visto più o meno sancito formalmente dal trattato di Maastricht in poi del 1992. Io proverò a fare un'introduzione delle principali questioni che poi andranno ad interrogare i nostri ospiti qui stasera, cercherò di essere brevissimo in modo da lasciare lo spazio poi agli ospiti e di poter appunto mettere in comune tutte le riflessioni che ne sorgeranno. Ovviamente parlare di Europa per noi ha un significato molto importante, perché significa parlare non solo di attualità politica, ma significa farlo rivolgendoci direttamente a quelle che sono le condizioni di possibilità per la trasformazione dello spazio europeo. Negli ultimi anni la questione della cosiddetta governance dell'Europa è sicuramente stata sotto i riflettori mediatici, è sicuramente entrata anche nelle mentalità della popolazione, sia in Italia che in altri paesi del continente. Lo è entrata perché principalmente nel biennio dal 2009 al 2011 i movimenti sociali che si sono dati in Italia hanno avuto una risonanza che è stata all'altezza di essere ascoltata anche negli altri paesi europei, perché anche altri paesi europei stavano sollevando delle parole comuni, un lessico che potesse essere condiviso da tutta questa composizione del continente che stava cercando di respingere verso il mittente le politiche di austerità. Qua in Italia abbiamo sicuramente l'esempio dei movimenti universitari, abbiamo sicuramente l'esempio dei movimenti per i beni comuni, ma se volgiamo un attimo lo sguardo al di là dei nostri confini, vediamo che anche in Spagna, anche in Grecia, per certi versi anche in Germania, ci sono stati dei movimenti molto simili, con un dizionario che sembrava essere scritto al di là di qualsiasi tipo di barriera linguistica. Allora, facendo una rapida analisi di quello che significa adesso vivere in Europa, mi sembra molto importante fare una citazione di Yanis Varoufakis, quando una volta interrogato da un quotidiano inglese ha dato la sua versione di come percepisse l'intero spazio europeo. Yanis Varoufakis ha detto per me l'Europa assomiglia un po' a un impero medievale, sembra quasi di riportare l'impero che eravamo abituati a studiare, che eravamo abituati a sentire nelle lezioni di storia a scuola, direttamente nel nuovo millennio. Perché ha detto questo Yanis Varoufakis? Perché come l'impero medievale abbiamo un meccanismo decisionale che è fortemente centralizzato e tuttavia non è centralizzato in un luogo fisico, in un luogo simbolico unico, è centralizzato diciamo in una sorta di corte che ha diversi luoghi, diversi simboli ed è incarnato da diverse persone. Abbiamo indubbiamente la Banca Centrale Europea come luogo in cui si materializza questa decisionalità con il suo presidente Mario Draghi, abbiamo indubbiamente la Commissione Europea, anche questa istituzione non elettiva, quindi non democratica, con il suo presidente Juncker, abbiamo l'Eurogruppo che per quanto formato dai ministri dell'economia e delle finanze di tutta Europa non risponde direttamente di un mandato popolare e il suo presidente disse il Bloem abbiamo visto che tipo di ruolo abbia avuto anche nei negoziati e nei processi di interazione con Siriza in Grecia. Indubbiamente oltre a queste tre istituzioni che fanno più parte del nostro continente il peso del Fondo Monetario Internazionale che risponde alle esigenze dei mercati finanziari per quanto riguarda la moneta, per quanto riguarda la volontà di speculazione non è assolutamente secondario, infatti come ha sempre fatto parte della cosiddetta troica adesso le istituzioni europee, l'ex troica. L'Europa assomiglia è un impero perché è un continente non omogeneo, come gli imperi medievali ci sono i vari feudi che rispondono a caratteristiche specifiche e locali, le economie sono differenti, basta guardare alla differenza tra nord e sud Europa ma anche tra est e ovest Europa, ma anche il peso nelle decisioni e nella direzione politica del continente vediamo delle discrepanze, è indubbio dire che la Germania di Angela Merkel ha sicuramente un ruolo di leadership e di trazione di tutto l'intero processo di andamento dell'Unione. Allora, questa Costituzione europea, su quali basi e su quali fondamenti si è costituita? Noi pensiamo di poterli riassumere brevemente in quattro principi, uno i confini di cui abbiamo parlato lo scorso lunedì, il secondo il meccanismo del debito sovrano, per cui il debito agisce proprio come fattore di inclusione all'interno dell'Europa differenziale, per cui chi è più indebitato avrà meno decisionalità politica all'interno dell'Europa, così come sarà costretto maggiormente dalle misure di austerità. Abbiamo uno spazio europeo che si è dato anche dal punto di vista del lavoro, quindi della mobilità della forza lavoro, oltre i confini da cui viene l'esigenza, per esempio, del trattato di Schengen e che si è dato per una progressiva liberalizzazione e abbassamento del suo costo, da cui ovviamente ci ricordiamo il Jobs Act approvato durante quest'autunno in Italia, così come tutte le varie riforme del mercato del lavoro in Europa. Abbiamo le gerarchie all'interno degli Stati membri e ne abbiamo appena parlato, ecco tutto questo definisce sia il tipo di attitudine e di impostazione che ha ciascuna singola istituzione all'interno dello spazio europeo, sia però da anche una visione, da anche un senso alla costituzione materiale di questa Europa. Ne dà un senso perché di tutto quello che possiamo dire sicuramente non possiamo dire che in Europa ci sia un'unità di tipo politico. L'unità politica manca per quanto riguarda l'affrontare il problema della migrazione, per esempio, e l'attitubanza a tratti disumana che si è vista per poter dare un'accoglienza degna e un diritto al movimento e ai profughi in queste settimane è emersa con tutta la sua violenza. Abbiamo anche visto che non si può dare unità politica perché non c'è una vera collegialità nelle decisioni europee, come si diceva prima. Eppure l'unità si dà secondo due regole principali che si ricollegano appunto al debito e alla gestione del mercato del lavoro. Sono il pareggio di bilancio che ogni Stato deve avere e che sono anche criteri per poter entrare dentro l'Europa, così come l'equilibrio dei prezzi, da cui queste manovre continue della BCE di inflazione per poter portare a una stabilizzazione dei prezzi, che è il mantra che assilla quasi tutti i monetaristi che fanno parte sia del Fondo Monetario Internazionale che poi del Board della BCE. Allora, rispetto a questo quadro che indubbiamente è problematico, noi come Comune di Europa, così come redazione di Global Project, pensiamo che sia indispensabile per poter pensare a una trasformazione dello stato attuale di cose, agire dentro e contro questo quadro che è stato appena delineato. Non pensiamo assolutamente che fuoriuscire dallo spazio europeo possa rappresentare una possibilità di innovazione, di ampliamento dei diritti sociali, di ridefinizione dei diritti di cittadinanza, così come di concezione di un altro tipo di democrazia che si può instaurare in Europa. Noi pensiamo che ci siano adesso tutte le condizioni per poter ripensare assieme un'altra Costituzione europea, a partire dalle problematicità che quella attuale sta dimostrando e sta facendo vedere ogni giorno con più arroganza. Un esempio tra tutti è chiaramente questo infinito negoziato che le istituzioni europee hanno instaurato con la Grecia, che oggi ha avuto un'altra tappa importante dopo mesi dalla vittoria di Siriza e che vedremo poi come si svilupperà, anche a partire da quella che può essere un'iniziativa politica da parte dei movimenti che riesca a dare spinta affinché si possa immaginare quest'altra Costituzione europea. Io finisco qui questa introduzione, ho cercato di delineare dei punti intorno ai quali vogliamo instaurare un ragionamento che speriamo possa essere utile a tutto il pubblico e a tutti i luoghi che solitamente attraversiamo. È un onore per noi qua a Sherwood ospitare Gisa Mendola, professore dell'Università di Salerno a Scienze Politiche, membro del collettivo di Euronomade che appunto ci aiuterà a capire quali sono questi caposaldi della Costituzione europea e che tipo di intervento si può fare tra irruzione di nuove forze politiche e iniziativa autonoma dei movimenti. Abbiamo qua tra noi anche Martin Glasenapp della coalizione tedesca di Blooccupai e della rete dei collettivi Intervenzionistice Linke che è stato assieme a tutta quella rete di compagni e compagne protagonista della costruzione del 18 marzo a Francoforte. Un altro degli eventi importantissimi che ha sicuramente tracciato un'altra direzione possibile rispetto all'Europa assieme all'irruzione di Siriza e alla sua vittoria a gennaio e assieme all'importante successo che ha avuto Podemos per le elezioni regionali e locali di questo maggio. Abbiamo tra noi anche Christos Simonelis, un deputato di Siriza che ci ha fatto il piacere di poter venire qua a Sherwood per dibattere con noi non solo della situazione greca ma anche di come Siriza e il popolo greco vede l'Europa e che tipo di aspettative ha rispetto al resto dell'Europa. Questo ci sembra importantissimo perché pensiamo sia un primo momento di condivisione politica tra diversi che tuttavia possono avere un progetto comune in mente per poter effettivamente liberarci dall'austerità, dal taglio del welfare, dalla compressione dei diritti del lavoro e dall'eliminazione di qualsiasi tipo di forma di democrazia e di sovranità territoriale. In ultimo abbiamo anche Rita Maestre che purtroppo per motivi istituzionali non è potuta venire qua nonostante l'iniziale disponibilità e comprendiamo tutto il lavoraccio che deve fare in quanto da una settimana è stata nominata portavoce del Consiglio Comunale di Madrid per la lista Ora Madrid, questa lista che ha saputo far convergere Podemos che ovviamente è stato un fenomeno sul livello nazionale spagnolo e non solo ma anche le reti di associazioni, di movimenti, di collettive, di centri sociali che nel capoluogo madrilegno hanno strappato dopo decenni di potere al Partito Popolare il governo della città. Ecco, anche a Rita chiederemo quali sono gli aspetti innovativi di questa vittoria elettorale, di quale tipo di rapporto si è instaurato con i movimenti e ovviamente di com'è possibile a partire dai territori poter iniziare questo nuovo percorso di ridefinizione della Costituzione Materiale Europea. Prima di iniziare e di lasciare la parola ai nostri ospiti vogliamo farvi vedere un breve video che Tony Negri ci ha rilasciato, appunto Tony Negri coautore di diversi libri tra cui Impero, Moltitudine e Comune, scritti con Michael Hart e membro anche lui del collettivo Aeronomade che ci darà in poche battute diciamo una spiegazione di cosa significa avere un processo costituente all'interno dell'Europa per riscrivere la Costituzione Europea, cosa significa farlo a partire dai movimenti ma anche cosa significa farlo a partire dalla presenza di queste nuove forze politiche come Siriza e Podemos. Io non vi rubo altro tempo, ringrazio chiaramente il pubblico per essere venuto ad ascoltare questo importante momento di dibattito, lasciamo la parola a Tony che saluta tutti e che si dispiace di non poter essere qua ma che diciamo sarà per un'altra volta e poi inizieremo col dare la parola ai nostri ospiti.